Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie alle scuole che sono volute essere qui con noi oggi alla presentazione del progetto Mondo Immigrato, nuovi sensori territoriali. In realtà il progetto è attivo già da qualche tempo, però noi abbiamo aspettato il bel tempo per presentarlo e soprattutto per organizzare questo incontro con le autorità e anche con le scuole. Allora io darei subito la parola al Vice Prefetto Maria Cristina Di Stefano dell'Ufficio Territoriale dell'Aquila. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io sono Maria Cristina Di Stefano e sono dirigente dell'area di immigrazione della Prefettura. Oggi sono in rappresentanza del Prefetto che purtroppo non ha potuto partecipare perché aveva preso dei dipenditi in precedenza. Però è con molto piacere che io oggi la rappresento proprio perché il progetto Mondo Immigrato è nato nella Prefettura, creato dall'inizio fino alla fine. E vorrei ringraziare anche tutti i miei collaboratori dell'area 4 che si sono spesi tantissimo per la realizzazione di questo progetto, che fra l'altro è stato fortemente voluto dal Prefetto, che ha subito raccolto l'invito del Ministero dell'Interno, che a suo tempo propose a tutte le Prefetture di predisporre delle progettazioni sempre nel campo dell'immigrazione che prevedessero anche dei percorsi di integrazione fattiva degli immigrati. E proprio partendo da questo invito, subito raccorto dalla Prefettura, ci siamo cimentati in una impresa difficile per noi che non avevamo mai fatto in precedenza dei progetti, supportati anche dal Ministero dell'Interno, dalla Collega e dallo suo staff tecnico che ci ha supportato veramente in tutti i passi. E abbiamo realizzato questo progetto che per noi doveva avere un duplice obiettivo, quello appunto di favorire in primis l'integrazione fattiva di questi immigrati provenienti dai paesi terzi, ma poi anche quello di sperimentare anche delle forme di collaborazione tra il pubblico e il privato. E quindi è dato il progetto Mondo Immigrato che prevede, diciamo, come la parte più importante, la creazione di questo sportello informativo che abbiamo ritenuto di considerarlo non come una realtà astratta a sé stante, ma come appunto un sportello itinerante sul territorio che costituisse un vero e proprio sensore territoriale. E da qui poi abbiamo deciso di esternalizzare ovviamente la realizzazione all'esterno ed è partita tutta la procedura, la complessa procedura costituita dall'avviso pubblico e poi dalla convenzione di sorvenzione che è stata sottoscritta con l'associazione che si è dedicata alla realizzazione di questo progetto. Diciamo che l'avviso pubblico è stato veramente oneroso per noi realizzarlo perché è complesso per tutti e poi c'è da dire, da non sottovalutare il lavoro molto, diciamo, attento e molto scrupoloso effettuato dalla commissione di valutazione che noi abbiamo appostitamente costituito che ha poi proceduto all'aggiudicazione a Mondo Digitale, alla fondazione Mondo Digitale che è stata ritenuta quella che avesse requisiti migliori per poter, diciamo, realizzare questo progetto. La fondazione Mondo Digitale la conoscete tutti, è molto attiva sul territorio, già segue diversi progetti e con l'utilizzo appunto della tecnologia digitale, già è attiva in diverse scuole e quindi sicuramente porterà avanti questa iniziativa nel migliore dei modi. Quindi io ringrazio Mondo Digitale, complimenti e buon lavoro. Grazie a tutti i presenti e ora per un saluto all'assessore Luigi Deramo, all'assessore alle politiche sociali della provincia dell'Aquila. Grazie, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno ai ragazzi che hanno preso parte a questo momento d'incontro, ringrazio anche i docenti che accompagnano i ragazzi e consentitemi un ringraziamento e un saluto a tutte le autorità, ai rappresentanti della fondazione, in particolar modo a Pierino Giorgi che rappresenta uno dei fiori che questa città è riuscita a costruire attraverso l'impegno disinteressato nei confronti delle persone che hanno più bisogno, delle persone più deboli e tutto il mondo che Pierino Giorgi interpreta e rappresenta nel mondo dell'associazionismo, del volontariato. Credo che progetti come questo siano la migliore risposta a una delle problematiche che questo territorio vive. La presenza di immigrati comunitari o extracomunitari è un dato di fatto e quindi credo che tutte le istituzioni, anzi sono convinto che tutte le istituzioni debbano necessariamente attivare processi come questo per garantire una perfetta integrazione. Una perfetta integrazione sostanzialmente coglierebbe tre punti importanti. Una convivenza pacifica tra diverse culture, una integrazione nel mondo della scuola, perché sono tanti i bambini che sono figli di immigrati, e il terzo punto fondamentale è il raggiungimento di un perfetto equilibrio nel mondo del lavoro, perché una delle carenze che non riesce e non permette evidentemente di cogliere un risultato giusto nella integrazione è anche la mancanza di occupazione. Noi dobbiamo creare le migliori condizioni anche attraverso i corsi di formazione, anche attraverso la pubblicità delle opportunità del mondo del lavoro per queste persone che vengono da altri paesi, che quando arrivano evidentemente soffrono in uno stato di povertà e dobbiamo essere noi lucidi e bravi e attivi nell'indicare loro quelle che sono le opportunità di lavoro che esistono sul nostro territorio. Quindi la presenza di un punto itinerante che gira sui nostri comuni, nei nostri territori, che di fatto diventa uno scoglio a cui aggrapparsi, un punto di riferimento, trovare delle persone che evidentemente possono collocare, parlare, spiegare con questi amici che provengono da altri paesi e da altre realtà territoriali è uno dei migliori servizi che potete esprimere sul nostro territorio. Quindi è questo lo sforzo delle istituzioni a fianco di chi opera giornalmente, quotidianamente, a servizio dei meno fortunati, noi evidentemente dobbiamo continuare a supportarli. Io sono veramente contento e voglio ascoltare e comprendere anche nei miei particolari come è stato organizzato questo progetto. Ed è altrettanto importante che i ragazzi che ascoltano che saranno i dirigenti del futuro, che saranno i protagonisti del futuro, sin da questa età, possano iniziare a comprendere e a collaborare per migliorare ognuno di noi, per migliorare la nostra società attraverso il raggiungimento di un equilibrio perfetto nel mondo dell'integrazione, quindi nel mondo dell'immigrazione. Quindi complimenti per questo progetto, complimenti a tutte le realtà che ne fanno parte e complimenti ancora per il lavoro che giornalmente portate avanti. Grazie e buon lavoro. E allora adesso io brevemente approfitto per presentarmi, ma soprattutto per presentare anche la Fondazione Moto Digitale che alcuni di voi conoscono già bene. Noi lavoriamo da tempo con l'Istituto Comprensivo San Demetrio dei Vestini che la preside oggi qua con noi ci ha voluto onorare della sua presenza, però ci sono altre due scuole che hanno aderito al nostro invito a partecipare oggi all'iniziativa, sia Leonardo da Vinci con il professor Mottola e l'Istituto di Savoia e Luca d'Aosta con la professoressa Lippartiti che io ringrazio per essere voluti essere... Ho sbagliato, scusate. Ho invertito, caspita. Mi dispiace. E che avete aderito alla nostra iniziativa a voler essere qui con noi oggi a presentare il progetto Mondo Immigrato. Per questo vi ringrazio, però vi devo spiegare un po' di più di quello che gli altri magari sanno già. Innanzitutto chi siamo noi? Noi siamo una fondazione mondo digitale e ci occupiamo di società della conoscenza inclusiva. Che vuol dire? Praticamente ci occupiamo di portare le nuove tecnologie nella società perché crediamo che oramai nel mondo globalizzato nel XXI secolo l'uso delle nuove tecnologie può essere un volano importante, no? Non solo un bilano di sviluppo economico ma anche un volano molto importante per l'integrazione. Chi oggi ha a disposizione nuove tecnologie? Ragazzi? Oramai ci sono ancora tante famiglie italiane in cui non c'è un computer, non c'è Inter, non hanno accesso alla posta elettronica. Però diciamo per i giovani di oggi che hanno accesso a tutto il mondo multimediale può sembrare che siano dei mezzi, degli strumenti scontati. In realtà non lo sono così per tanta parte della società, no? Per cui noi abbiamo anche il compito di portarle tra le fasce più disagiate, chi è più escluso e chi ha difficoltà di integrazione non solo i migrati e i rifugiati politici, anche se è oggi quello di cui parliamo qua, però anche nelle donne, in chi è fuori dal mondo professionale, nei disabili, nei bambini lungo dei geni. Ci sono tutta una serie di fasce della popolazione a cui è difficile avere accesso alle opportunità che le nuove tecnologie offrono. Per cui questa è una parte del lavoro della Fondazione Mondo Digitale, un lavoro che facciamo anche da tempo all'Aguia. Noi siamo stati presenti anche con il dopo Sisma, abbiamo raccolto dei computer che abbiamo donato da alcune scuole. Per cui è un territorio che oramai cominciamo a conoscere abbastanza bene, anche perché lavoriamo con dei partner eccezionali. Incontriamo sempre sul territorio gente veramente entusiasta, delle presidi come la preside che è oggi qui con noi, che veramente sono degli animatori sociali e quello di cui il territorio oggi ha molto bisogno. Però perché abbiamo voluto invitarle scuole oggi qui alla presentazione del progetto Mondo Immigrato? Guardate che la sfida dell'integrazione, che è una sfida oramai irrinunciabile in un mondo globalizzato, nella società del ventunesimo secolo, in un mondo complesso come quello in cui ci troviamo a vivere, in cui ci troveremo a vivere nel futuro, sarà sempre più difficile le sfide anche che si vedono oggi, che ci pone la crisi economica, sono sfide globali a cui tutte le società devono essere pronte a rispondere. E questa sfida dell'integrazione, guardate la scuola può avere un ruolo essenziale, noi oramai di questo ne siamo convinti, perché la scuola di per sé, ma soprattutto i ragazzi, voi ragazzi, siete un soggetto naturale, un diffusore naturale di culture, di permeazione di culture e mondi diversi, cioè il ragazzo che sta il giorno a scuola, il ragazzo immigrato, magari che vive con la sua famiglia che non è di origine italiana, il giorno sta a scuola e fa parte di una comunità attiva che partecipa alla vita democratica del proprio luogo e poi il pomeriggio va a casa, per cui e sta nella sua comunità che spesso in territori difficili come può essere quello dell'Abruzzo, a volte le comunità di immigrati sono comunità anche abbastanza chiuse per la tipologia di lavoro che i genitori fanno, per le opportunità economiche che ha per il territorio, per cui ecco il ragazzo che è il primo promotore, il primo diciamo così permeatore dell'integrazione, per questo noi vorremmo che voi siate coscienti e consapevoli dell'importanza che può avere la scuola oggi, soprattutto una scuola sensibile a queste tematiche e per questo crediamo che potete essere una cassa di risonanza naturale, un progetto come questo che vuole, ha l'ambizione di mettere in campo dei sensori territoriali nuovi, innovativi, apriremo degli sportelli in cui possiamo andare a raccogliere le esigenze degli immigrati, ma anche a far sì che lì questi sportelli possano trovare delle risposte nuove ai loro bisogni di integrazione. Ecco la scuola deve essere una cassa di risonanza naturale di tutte queste iniziative, perché voi per primi potete essere dei gestori dei nuovi bisogni di integrazione, potete essere dei diffusori di tutte le iniziative e i progetti nuovi che vi possono essere proposti nella vostra scuola. L'Istituto Comprensivo San Demetrio dei Destini dopo, con anche due ragazzi che vi porteranno alla testimonianza di quello che stiamo facendo oramai da diversi mesi a San Demetrio, ne possono essere una testimonianza. Ecco per questo che noi ci teniamo molto a coinvolgerti e speriamo soprattutto di rincontrarvi nel territorio, nel cammino che faremo con questo progetto. Noi saremo attivi fino alla chiusura dell'anno scolastico, per cui avremo questi tre punti fissi, ma anche un camper che poi Giorgio Paolo spiegherà nella Comitata O, lo spiegherà nel dettaglio qual è il lavoro che faranno le tre organizzazioni, le tre cooperative con cui ci troveremo a lavorare, per cui speriamo di rincontrarvi poi anche potendo raccogliere le proposte che potrebbero emergere dalla vostra scuola, i bisogni del territorio che tramite voi potremmo essere pronti a raccogliere. Allora io voglio però approfittarne anche per ringraziare il Viceprefetto di L'Aquila per la fiducia che ci è stata concessa e anche per il supporto costante che ci danno, il Ministero dell'Interno con cui noi collaboriamo da diverso tempo e per sempre per l'attenzione e la presenza costante su tutte le attività, le autorità locali che oggi hanno voluto essere qui con noi a sottolineare anche quanto questa sfida dell'integrazione sia sentita anche sul territorio locale, tutte le comunità che lavorano con noi, le cooperative sociali e poi appunto di nuovo l'Istituto da presa e l'Istituto comprensivo San Demetrio nei Vestini. Ora darei la parola all'assessore Stefania Bezzopane, assessore alle politiche sociali del Comune dell'Aquila. Buongiorno, io mi scuso davvero, sono molto rammaricata del ritardo, abbiamo avuto un problema questa mattina, il Sindaco mi ha delegato all'ultimo momento a venire ma sono molto molto contenta di essere qui e faccio i complimenti a tutte le persone che si sono prodicate per ottenere questo risultato del finanziamento, questo risultato del progetto, quindi saluto innanzitutto coloro i quali hanno lavorato per questo obiettivo e saluto anche ovviamente le istituzioni, quindi l'assessore provinciale, il rappresentante della Prefettura e tutti coloro che sono qui, saluto anche ai ragazzi. Io sono tra l'altro molto grata a chi si occupa di queste problematiche, lo facciamo anche noi ovviamente per le nostre competenze, perché sono problematiche particolarmente complesse, che pretendono molta attenzione, molta serietà, poca demagogia, molta concretezza. peraltro siamo in una città in cui queste problematiche sono state fino ad oggi ben corristite, non siamo una città in cui c'è un allarme e questo è frutto anche di un'anima solidaristica, di un'anima profonda di cui possiamo essere orgogliosi, ma è naturale che è una città che sta subendo grandi profonde trasformazioni dopo il sisma e che queste trasformazioni vanno accompagnate per evitare che dentro le trasformazioni alcune problematiche, alcuni fenomeni possano degenerare. La presenza di molti immigrati che arrivano per esempio per la ricostruzione, quindi con una specificità di lavoro nell'edilizia e può essere una componente complessa da gestire. Mentre fino ad oggi siamo riusciti in qualche modo, e davvero va ringraziata anche la prefettura che coordina il tavolo dove ci troviamo sovente, convocati proprio dal prefetto, per coordinare tutte le nostre iniziative, ha fino ad oggi gestito insieme alle istituzioni locali e insieme al volontariato, al sistema della cooperazione e questa problematica. Oggi abbiamo di fronte problemi nuovi. Peraltro proprio pochi giorni fa siamo stati in prefettura dove la prefettura ha espresso dei giudizi anche su alcune iniziative, alcuni progetti, è un progetto presentato dal comune proprio con mondo digitale, ha avuto anche un riconoscimento, quindi c'è l'opportunità sperando che venga finanziato come noi ci auguriamo, di poter proseguire questo lavoro insieme. La problematica nuova qual è? È quella appunto dei lavoratori, dei lavoratori che in molti casi vengono portati nella nostra città senza una rete, senza un sistema di sicurezza, in alcuni casi assistiamo a un vero e proprio ritorno del fenomeno del caporalato con tutto quello che ne può discendere dal punto di vista sociale e dell'integrazione. E se l'integrazione, la cooperazione tra le istituzioni e il sistema del volontariato può essere una carta che ha già dato dei risultati importanti, possiamo continuarne ad avere. Oggi noi abbiamo per esempio in una città che ha subito quello che ha subito, una situazione in cui per molte famiglie immigrate proprio la condizione di essere accolte nel progetto GAS, nei MAF o anche nelle case del fondo immobiliare ha costituito, se possiamo usarlo come paradosso, addirittura un miglioramento delle loro condizioni che prima erano paradossalmente più pregarie. Questo lo registriamo perché li conosciamo, per altri però che arrivano invece nella fase della ricostruzione, con questi fenomeni anche di precarietà del lavoro, si può innescare un fenomeno del tutto opposto. Quindi ci vuole un lavoro nei confronti dei giovani perché i ragazzi non hanno pregiudizi, ma non ci vuole molto a coltivare i pregiudizi. Ci vuole un lavoro prezioso con le istituzioni perché le istituzioni non sempre sono adatte e preparate all'accoglienza e ci vuole un coordinamento con chi, come la struttura che ci ospita, lavora costantemente e quotidianamente su problemi anche primordiali, come posso dire, il problema del pasto, il problema della casa, con Pierino ci troviamo spesso a dover affrontare situazioni drammatiche che si presentano all'improvviso e non sappiamo a volte come risolverle, ma alla fine siamo riusciti comunque a fare tante cose importanti. Io vi ringrazio ancora, mi scuso nuovamente per il ritardo, vedo nella platea oltre a tante facce amiche di persone che lavorano costantemente su questi problemi, anche molti ragazzi, ecco, i ragazzi sono un po' la nuova città, la nuova vita e questa è una città che ha saputo negli anni passati essere accogliente, dobbiamo continuare a farlo, stabilire delle regole. Se qualcuno esce dalle regole o ha il viso bianco o ce l'ha nero è uno che sta fuori dalle regole e quindi bisogna farlo rientrare nelle regole, ma quando le persone sono messe nelle condizioni di ben inserirsi abbiamo delle esperienze particolarmente belle anche con le strutture che abbiamo organizzate, quindi credo che anche queste iniziative, questi progetti che usano le nuove tecnologie, che riescono ad arrivare dove magari con il rapporto umano non si riesce ad arrivare, sono progetti importanti, iniziative importanti, io sono molto grata a chi riesce anche a ottenere gratificazioni, risultati e sostegni e lancio proprio questo messaggio, continuiamo a lavorare e soprattutto lavoriamo ancora di più insieme, perché è la carta che ci può dare maggiore forza ed è lo strumento che ci può dare maggiore efficienza nel lavoro costante e complesso che dobbiamo fare. Buon lavoro a tutti. Grazie all'assessore, ora due interventi che entreranno un pochino più nello specifico del progetto. Giovanna Rodorigo di Leonardo, Società Cooperativa Sociale. Buongiorno a tutti, sono Giovanna Rodorigo, sono psicologa e in questa sede vado a rappresentare la cooperativa sociale Leonardo nella quale lavoro e che all'interno del progetto Mondo Immigrato gestisce attualmente i punti ricettivi fissi. Appare doveroso fare una breve presentazione sulla nostra cooperativa. La cooperativa Leonardo nasce nel 2003 a sede legale ad Avezzano, San Buco. Dalla sua nascita si è sempre occupata di progettazione e coordinamento dei servizi sociali alla persona nel campo socioassistenziale, educativo e di riabilitazione. Opera attivamente in diversi comuni e territori attraverso una politica che ha sempre adottato, che va a coniugare obiettivi di efficacia e di efficienza insieme ad obiettivi di professionalità e di qualità per cui il pieno soddisfacimento dell'utenza target e dei nostri servizi e dei committenti rappresenta il fattore prioritario. Grazie alla politica che ha da sempre adottato la nostra cooperativa attualmente, ad oggi, possiamo contare addirittura su circa 200 dipendenti e sull'attivazione di diversi sedi territoriali ed operative tra l'Acce e l'Abruzzo. La cooperativa Leonardo all'interno del progetto Mondo Immigrato, come dicevo, si occupa della gestione in partnership e in collaborazione con gli altri partner progettuali della gestione dei punti ricettivi fissi. Attualmente i punti ricettivi che abbiamo attivati sono tre, uno presso il comune di Avezzano all'interno della cooperativa Leonardo, l'altro presso il comune di San Demetrio di Vestini all'interno proprio degli uffici comunali nella nuova sede e un'altra sede all'interno dei locali della comunità montana Sirentina presso il comune di Secinaro. Diciamo che inizialmente a livello progettuale avevamo pensato a soltanto due punti ricettivi fissi, uno ad Avezzano e l'altro a San Demetrio di Vestini, soltanto che in itinere, e qui diciamo spezzata una lancia a favore di tutti i partner progettuali, abbiamo rilevato il bisogno un po' di creare un ulteriore punto ricettivo fisso in quell'area che fa un po' da conte tra la realtà dell'Aquila, della città dell'Aquila e quindi della bassa valle dell'Aterno e l'area geografica che insomma si estende tra Avezzano e la Marzica. Ed è qui che il comune di Secinaro, il punto ricettivo fisso aperto all'interno del comune di Secinaro va a rappresentare un po' un punto baricentrico tra la realtà della Marzica e la realtà dell'Aquila andando appunto ad unirle. E questo è uno dei punti di forza del nostro progetto perché essere presenti in un territorio così basco, perché comunque parliamo di un'area che va dal comune dell'Aquila, comune di Limitrofi, basta valle dell'Aterno fino alla valle sub-Eguana, Marzica ed Avezzano, significa effettivamente avere un impatto a livello territoriale davvero notevole e realizzare appena un po' quello che è l'obiettivo del nostro progetto. Il punto ricettivo fisso come è stato anticipato funziona da sensore territoriale. Che cosa vuol dire? È un po' come un occhio all'interno del territorio che in un certo senso però va a fare qualcosa di innovativo rispetto ai classici sportelli immigrati gestiti dagli antilogali e dalle comunità montane o comuni. Perché? Perché innanzitutto chi si rivolge al punto ricettivo fisso ottiene delle prestazioni ci tengo a chiarirlo completamente gratuite e qui si può rivolgere non soltanto il cittadino straniero ma tutti. È uno sportello aperto a tutti, quindi alla comunità locale, dal privato cittadino, agli enti pubblici, alle scuole, alle associazioni e agli enti del no profit. È un servizio innovativo perché fondamentalmente chi si rivolge allo sportello porta una domanda d'aiuto o un fabbisogno. La modalità di intervento e di risposta, seppure individualizzata, comunque viene gestita sempre in un'ottica sistemica, se così possiamo dire. Dall'analisi della domanda si procede con la presa in carico e viene data una risposta concreta, effettiva al cittadino che si rivolge al sportello. E come lo si fa? Attraverso innanzitutto un lavoro che sempre e comunque direte. Anche se diversi partner gestiscono azioni progettuali distinte tra loro, tutti i partner comunicano tra di loro e tutte le azioni progettuali chiaramente sono interconnesse. Ogni cittadino riceve una risposta al suo fabbisogno che è sempre nuovo e soggettivo anche attraverso un'equipo, ci tendo a sottolinearlo, del tutto innovativa e sperimentale. Nei nostri sportelli non c'è il consueto, solo l'operatore di sportello, mediatore culturale e linguistico. Il cittadino che vi si rivolge può contare sulla consulenza professionale di una psicologa, di un assistente sociale, di un sociologo e anche di un consulente legale. Questo perché si vuole in un'ottica di efficacia e di efficienza dare una risposta concreta sempre e comunque a 360 gradi. Un altro fattore innovativo è rappresentato dal fatto che comunque sia vero che alcuni comuni come quello dell'Aquila e di Avezzano sono quelli con il maggior numero di cittadini stranieri, è anche vero che i nostri punti ricettivi fungono da sensori per quelle piccole comunità locali, per quei comuni che hanno un'unità abitativa di sotto dei mille abitanti, dove però il tasso di incidenza della popolazione straniera è davvero notevole. Parliamo di comuni che se si va a leggere la loro storia passata da città di emigranti si sono trasformate ultimamente da città di immigrati, comuni dove la popolazione straniera rappresenta una vera e propria risorsa perché va un po' ad invertire il fenomeno dell'abbandono locale e quindi è qui la forza del punto ricettivo fisso che dando ascolto e quindi prestando attenzione per bisogni della popolazione locale cerca di garantire tutta una serie di servizi informativi sulle risorse strutturali del territorio per garantire la piena esecuzione del diritto alla cittadinanza anche al cittadino straniero. Per quanto riguarda la modalità poi di gestione operativa dei nostri punti ricettivi fisso ci tengo a sottolineare come dicevo che seppure ogni intervento è comunque individualizzato il cambiamento che noi apportiamo sul singolo individuo è un cambiamento collettivo perché comunque provoca a cascata un effetto un mutamento sul sistema di appartenenza dell'individuo stesso che sia il sistema familiare, il sistema educativo e scolastico o il sistema comunitario di riferimento. È un po' la linea strategica che viene seguita dall'intero progetto. Vorrei concludere dicendo soprattutto facendo un po' riflettere i giovani che oggi vedo qui presenti su quella che è la modalità con la quale nasce questo progetto lasciandovi una frase tratta dal libro Il Cacciatore di Aquiloni di Galedro Steyn. Essere guardato e non soltanto visto, essere ascoltato e non soltanto dito. Grazie. Sarò brevissimo anche perché la competente esposizione della dottoressa è quello, non direttamente. Invece voglio rivolgermi ai giovani perché voglio spiegare un po' il perché di questa location, adesso si parla in inglese quindi parliamo, quindi si chiama location. Qui siamo alla mensa di Celestino, è la mensa dei poveri che prima del terremoto stava al centro, non so molti di voi se conoscevano quella realtà, ma i giovani soprattutto devono sapere che qui vengono circa 120 persone al giorno a sedere su questi tavoli per mangiare, altrettanti prendono il cibo per portare via per la sera e poi tutto quello che diamo ogni settimana, il pacco viveri per tante famiglie bisognose e poi tanta assistenza eccetera. Cosa c'è di comune tra perché voi giovani, parequilino prego, il nostro pare spirituale, il nostro sostegno morale della pagherla, cosa c'è di comune che ci lega oggi qui voi giovani è questa realtà. Voi giovani avete ai vostri banchi sicuramente i figli degli immigrati che stanno insieme con voi, verranno più numerosi più che mai, sarà una presenza continua, costante, questi giovani saranno i vostri compagni di banco, provengono da diverse situazioni, da diverse mentalità, da diverse realtà. Quello che bisogna evitare è proprio l'evitamento, l'esclusione, la incomprensione. Noi abbiamo come retaggio mentale una sorta di reticenza verso lo straniero. Questa è una condizione che impedisce il colloquio, il rapporto. Qui invece vengono i genitori a mangiare, a chiedere aiuto, a chiedere sostegno. L'Aquila, diceva l'assessore Pezzopane, è stata sempre una città accogliente, è una città territorio, nel senso che è una città centrale che attua le sue attività e quindi le sue azioni nel territorio, abbracciando una vasta area di influenza. Ma per essere città territorio l'Aquila deve essere capace di essere un punto luce, deve essere capace di essere da esempio per tutti gli altri paesi. Oggi possiamo dire che manca questa capacità di essere punto luce, di essere punto di riferimento. Dopo il terremoto, ma anche prima del terremoto, questa capacità di raccordo, di propulsione, di attività, di moralità, di gestione del bene comune, eccetera, è venuta meno. Dopo il terremoto, peggio ancora. Bisogna recuperare, secondo me, una capacità di raccordo, una capacità di volersi bene, una capacità di fare rete. Oggi noi siamo qui dando questo esempio, ecco perché questo luogo, perché qui si attua, si sta attuando una capacità di raccordo, una capacità di mettersi in rete tra diverse associazioni. È bello vedere che qui all'Aquila vengono da altre situazioni, da altre realtà e chiedono di poter partecipare a qualcosa di bello, di buono per questa città. O si passa attraverso questa capacità di intervento, questa capacità di progetto, questa capacità di relazione, oppure è difficile ricostruire una città e un territorio. Perché si parla sempre di costruzione dell'Aquila, ma bisogna parlare di costruzione di un territorio, perché il cratere è molto più vasto dell'Aquila, quindi abbiamo bisogno di ricreare rapporti amicali, rapporti consolidati, fondati su principi comuni che tutti condividiamo. E questo con i giovani, noi abbiamo una grande responsabilità ai nostri confronti. Noi dobbiamo essere quelli che aiutano i giovani a crescere in questo sistema. Come si fa? Noi, gli immigrati, non li risolviamo mandandoli a casa, mandandoli via, perché loro hanno una forza che noi non abbiamo, loro hanno la disperazione, che è una forza immensa. La disperazione ti fa compiere gesti e attività che noi neanche pensiamo lontanamente. Allora, per evitare che la loro disperazione si ritorca contro di noi e contro la società nostra, noi dobbiamo fare in modo che il nostro apporto, il nostro approccio ai loro confronti, sia quello dell'accoglienza, la massima accoglienza. Dobbiamo aprire le braccia e accoglierli, certo, con rispetto delle leggi, delle norme, quello che vogliamo, ma a noi compete, noi associazioni, noi operatori sociali, a noi compete dare questo segno, questo senso dell'accoglienza, dell'amore nei loro confronti. Solo così vinceremo quella reticenza e quel evitamento di cui parlavo prima. Non dobbiamo avere paura del diverso, dobbiamo essere fautori di un cambiamento anche della nostra mentalità, perché ci arricchisce. Sapeste quanti insegnamenti qui dentro vengono dati a noi, da loro, che vengono a mangiare qui? Vi faccio un esempio. Una volta era avanzato un pezzo di pane sul tavolo, l'ho visto io, è capitato a me, lo stavo mettendo via per secchio, uno di loro si alza e mi viene di contro, correndo. No, no, questo peccato, questo peccato, prende il pane, lo bacia e lo mette sul tavolo per gli animali di sopra. Ragazzi, questi sono gli insegnamenti di una moralità e di un senso di vita che noi abbiamo perso. Io me lo ricordo quando ero giovane, quando ero piccolo, che si faceva così, il pane si baciava e si metteva per la sera, per gli animali, non si buttava, il pane è sacro. Ebbene, io ho rivisto questo insegnamento che fa parte della nostra cultura, fa parte di noi, noi l'avevamo dimenticato. Ebbene, allora, ci sono delle cose buone che vanno riconosciute, delle cose cattive che bisogna combattere, bisogna attuare delle leggi, per carità di Dio. Però il nostro spirito, la nostra mente, la nostra capacità deve essere quella dell'accoglienza. Questo progetto va verso questa direzione, ecco perché abbiamo accolto con piacere questo partnership e sicuramente avremo modo di ampliare questa collaborazione, perché questo è la capacità e la possibilità di ricostruire l'Aquila nel futuro. Grazie. E ora la testimonianza della scuola, dell'Istituto Comprensivo San Demetrio dei Lestini per farci raccontare quello che loro stanno già facendo da diversi mesi e come i ragazzi e gli insegnanti guidati da una preside illuminata possono essere da guida di questo percorso. Iniziamo con la preside, Lucia Di Giulio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Demetrio dei Lestini. Grazie Mirta, grazie a tutti gli attori che già conoscevo prima, a cui si è aggiunto anche Paolo. Mi fa piacere che nel sentire tutti questi interventi, anche quello dell'assessore Teramo e dell'assessore Pezzopane, io possa ritrovare tutti i punti di riferimento che hanno guidato la mia azione e che ho strenuamente cercato di trasmettere a tutto il corpo docente, non docente e a tutte le famiglie del mio comprensivo. Io ho preferito, diciamo, contributo scrivendo per evitare che poi, come il mio solito, diciamo, faccia delle digressioni perché sono una persona che con le gambe non cammino molto, ma con la testa forse a volte, diciamo, devo un po' frenare. Allora ho detto, ma io che scrivo così non stanco nessuno. Allora, dirigono da cinque anni l'Istituto Comprensivo di San Demetrio che consta di sette plessi di scuola in l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e due nidi per bambini dai due e tre anni. L'utenza scolastica proviene da otto piccoli comuni montani ubicati nella media e bassa valle dell'Aterno e ricadenti nella competenza di zona della comunità montana sirentina. Le famiglie, dedite specialmente all'agricoltura, edilizia, piccolo artigianato, commercio, pubblico impiego e professionismo privato, sono molto interessate all'andamento scolastico dei propri figli, ma tra esse si riscontrano alcune condizioni particolarmente disagiate dal punto di vista economico. Negli ultimi anni si è registrato un'intensificarsi del processo immigratorio di nuclei familiari di recente Costituzione che hanno spesso al loro interno due o tre, a volte anche quattro, figli in età scolare. Il 16% degli studenti dell'Istituto Comprensivo provengono da più di 12 Paesi europei ed extraeuropei. Di recente inoltre si assiste alla crescita del numero di giovani coppi italiane che fissano la residenza nei tanti piccoli centri che gravitano nell'interlande di L'Aquila, Sulmona e San Demetrio. La maggiore natalità farebbe pensare ad un'invenzione di tendenza rispetto al progressivo invecchiamento della popolazione residente sinora verificatosi. Il fenomeno dell'urbanizzazione iniziato negli anni 50 e andato avanti negli anni successivi recentemente e ancora di più dopo il terremoto appare molto più limitato. Gli otto comuni sono formati da numerose e poco popolose frazioni spesso distanti tra loro e dalle due città di riferimento l'Aquila e Sulmona, consistente dunque il fenomeno del pendolarismo e della dispersione degli abitanti nel territorio. Poiché i servizi essenziali, sociali, sportivi, ricreativi, culturali, sanitari, religiosi, ricettivi e turistici si trovano su un territorio molto ampio, la popolazione attiva e i giovani sono costretti a continui spostamenti per usufruirne. La dispersione potrebbe favorire isolamento sociale e fisico soprattutto nella fascia di età tra i 2 e i 14 anni, la fascia di cui il comprensivo si occupa. Ma già da decenni sia gli otto comuni e sia la comunità montana-sirentina intervengono attivamente per migliorare l'offerta formativa della scuola assicurando, e a volte con fatica, visto i tagli anche agli antilocali che abbiamo visto negli ultimi tempi, assicurando, dicevo, i servizi socioeducativi di scuola, bus e mezza scolastica, asili nido, prescuola, assistenza agli alunni disabili e corsi di informatica per adulti che noi teniamo nel nostro laboratorio intitolato forse Paolo lo conosce al maestro Gianni di Genova a cui io ho intitolato il primo anno al nostro laboratorio che lavorava lì in quella scuola e che tutti noi a Guiliani ricordiamo con affetto e con stima. L'istituto comprensivo si è sempre impegnato a realizzare progetti integrati con agenzie formative del territorio. ed ha stipulato accordi di rete, protocolli d'intesa, convenzioni, patti formativi e accordi con scuole statali e paritarie, con università, con associazioni formative, col mondo del volontariato e dell'associazionismo sportivo, istituzionale negli ultimi tempi per lo più con la protezione civile, culturale, ambientalistico e sociale. Una moltiplicità di soggetti garantiscono apprendimento diffuso e significativo, ma contribuiscono anche a rafforzare l'identità della scuola, il senso di appartenenza di tutti gli alunni ed alunne alla propria comunità e la costruzione di cittadini consapevoli ed attivi. Paradossalmente, dopo il terremoto epocale del 6 aprile 2009, che ha prodotto distruzioni, lutti anche nella mia famiglia, paura, disorientamento, dolore, incertezza, disgregazione sociale e profondo disagio, abbiamo assistito e abbiamo partecipato ad una straordinaria e rilevante aggregazione di soggetti istituzionali e non istituzionali, uniti da un unico obiettivo, la ricostruzione delle strutture abitative, scolastiche, lavorative, sanitarie, sociali, istituzionali, religiose, sportive e culturali nel nostro territorio, ormai denominato, ahimè, cratere sismico. Non fu un caso che il progetto integrato educativo, formativo e ricreativo, che in qualità di referente del Ministero dell'Istruzione per il centro operativo misto numero 2 del Ministero dell'Interno, che elaborai e che realizzai all'indomani del sisma, e fino all'agosto del 2009, sono sempre problemi tecnici, perché pensavo di avere un micro. All'interno di 15 tende scuola, sparse nel territorio, per alunni ed alunne che andavano dai 2 ai 19 anni di età, aveva come titolo scuola e puntini puntini dintorni. In quei giorni di duro e frenatico lavoro, tutto il personale, le famiglie, gli studenti e gli enti locali afferenti all'Istituto Comprensivo, stabilirono centinaia di contatti regionali, nazionali e internazionali. Grazie alla copiosa solidarietà umana e materiale da tutta l'argita, fu consentito il ripristimo di quella che noi terremotati chiamammo allora, ancora oggi, normalità, L'incontro con la Fondazione Mondo Digitale avvenne proprio in quei giorni. Permise prima l'attuazione del progetto in rete nonni su internet, teso ad un'alfabetizzazione informatica degli over 60 da parte degli alunni della scuola media, e poi l'elaborazione e la realizzazione del progetto a valenza territoriale finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'integrazione dei paesi terzi 2007-2013, A2 e A4, la scuola formato famiglia. A2 è il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto ad uno straniero per soggiornare in Italia. A4 è il formato del foglio che i ragazzi hanno usato per stampare le schede destinate alla scuola a domicilio, che raggiunge i genitori e tutti gli stranieri che non possono frequentare corsi di formazione. Qual è stato il senso? Se i cittadini stranieri, drammaticamente colpiti e marginalizzati dal sisma, non sono in grado di seguire corsi di formazione, è la scuola che li raggiunge a casa. Il progetto in rete, con la Fondazione Mondo Digitale e la Comunità Mondana Serentina, è coinvolto tutte le classi della scuola media, in cui frequentano 17 alunni stranieri, sei docenti, un docente referente, un docente esperto di informatica e due mediatori culturali. Gli studenti hanno predisposto 30 schede in formato elettronico e cartaceo sulla lingua, cultura e civiltà italiana, da sottoporre ai genitori stranieri in casa per accrescere le loro competenze sulla lingua italiana, previa compilazione e riconsegna dei test di verifica di comprensione. Sono stati gli studenti che hanno fatto vari compiti, dicevo io, ai genitori, non è il contrario. È bellissimo. Mirabilmente supportato dalla Fondazione e dalla Comunità, il progetto ha permesso l'avvicinamento degli immigrati alla scuola, ha favorito l'inclusione e l'integrazione degli immigrati, in particolar modo le donne, che sono in genere tra gli immigrati anche le più escluse. Ha perseguito i modelli di insegnamento cooperativo, di ricerca e intergenerazionale. Ha implementato la cittadinanza, l'accettazione e la conoscenza tra italiani e immigrati, adulti e giovani. Ha realizzato diversi eventi aggregativi interculturali a scuola e in casa con mediatori, operatori scolastici e famiglie. Ha accresciuto le competenze relazionali di tutti, me compresa. Non da ultimo, il progetto ha gettato le basi per una serena convivenza civile, alta a prevenire conflitti, sconfiggere la solitudine e l'isolamento degli immigrati e non solo, fornendo a loro e a noi italiani gli strumenti di conoscenza per combattere diffidenza e intolleranza. Proprio quello di cui parlavi tu, Paolo. Il progetto, a parer mio, ha contribuito a nutrire quell'humus che permette oggi l'apertura dei necessari servizi di ascolto, di aiuto e di guida per gli immigrati e anche per gli italiani. Con mia grande soddisfazione posso dire che il progetto A2A4, la scuola formata famiglia, ha avvicinato così tanto le famiglie immigrate alla scuola da farci per ora in via informale, Il prossimo anno spero in via formale inviando le iscrizioni al centro territoriale permanente che al momento sta ancora a Montereale di un corso di italiano per adulti che è frequentato da bene 15 donne emigrate di prevalenza origine macedone. Questo grazie ad una signora di origine macedone che a titolo volontario mette a disposizione le sue conoscenze della lingua italiana per le madri e le donne che frequentano tuttora con entusiasmo. Del resto io non sono nuova a queste iniziative perché anche due anni fa ho fatto attivare dal centro territoriale permanente un corso di alfabetizzazione per gli anziani ospiti nella residenza sanitaria assistita che sta in Fontecchio Fontecchio fa parte del comprensivo che erano anche se ben 80 anni qualcuno 90 anni sprovvisti di licenza elementare. Già che l'obiettivo prioritario dell'istituto comprensivo deve essere a mio avviso e è sempre stato nell'acqua di questi anni di lavoro quello di sincronizzare i tempi della scuola e quelli dei servizi di lavorare sul territorio assieme alle istituzioni presenti o ad esse convergenti per rafforzare un'idea di scuola come luogo di aggregazione per l'intera comunità capace di svolgere il compito di fornire istruzione e formazione ma anche competenze relazionali. Presupposto questi di crescita sociale armoniosa vengo dal mondo della musica quindi l'armonia la conosco abbastanza bene solidale e rispettosa delle leggi e delle istituzioni dello Stato italiano e financo secondo me anche dell'Europa e sono proprio questi presupposti i veri valori aggiunti della rete di cui dovevo parlare nella mia relazione fili reali o ideali più o meno grossi intrecciati tra loro autonomi e interconnessi allo stesso tempo come lo è o dovrebbe essere a mio avviso ciascuno di noi nel consesso civile in cui vive grazie e ora vorrei chiamare due ragazzi dell'istituto comprensivo di San Demetrio nei vestiti che ci portano una breve testimonianza sul lavoro che hanno fatto in questi mesi e su quello che hanno imparato e su quello che li hanno colpiti Marco Cristian e Asani Edward chi inizia? sei? Asani Edward allora Edward che ti è piaciuto di più del progetto? cosa hai imparato? mi è piaciuto di più che tutte le persone stranieri arrivati qui in Italia hanno partecipato a questo progetto e che attraverso la scuola tutte le famiglie potevano partecipare a questa iniziativa noi abbiamo fatto delle scuole didattiche che parlano ad esempio dei saluti che si possono in italiano che si possono trovare più più da usare più maggiormente poi c'è stato anche prima delle vacanze in Italici una festa con canti tradizionali vestiti tradizionali e anche balli di origine straniera e a questa festa ci sono partecipate anche famiglie italiane quindi c'è stato quasi uno scambio di culture e io poi la preside ha detto gran parte quindi io abbiamo fatto che abbiamo fatto un saluto sulla patente diciamo non solo sui saluti sulla patente abbiamo fatto anche la colpa mia io ho chiesto perché mi ha piaciuto di più io ho cercato di dare guarda come complesso abbiamo fatto anche sui servizi pubblici esatto sui servizi pubblici che ad esempio banca acquistura che la acquistura serve molto ai stranieri ai stranieri banca la posta e altri molti si allora poi abbiamo preso anche in considerazione dei documenti che possono servire alle persone immigrate in Italia con questo io concludo grazie e invece Cristian a te che ti è piaciuto di più e cosa ti ha colpito di più a me è piaciuto che insieme alla scuola la scuola ha organizzato un progetto che poteva aiutare non solo noi i bambini ma anche i nostri genitori ad imparare meglio la lingua e le diverse culture che ci sono in Italia infatti con la nostra classe abbiamo fatto le schede riguardanti le diverse feste che ci stanno e i diversi lavori che si potrebbero trovare e inoltre abbiamo lavorato abbiamo visto come è formato il nostro territorio e l'Italia in generale grazie grazie e ora padre Aurino se vuole fare un'interazione scusate che sono arrivato tardi ma praticamente è come se fossi stato qui ma non da stamattina da ieri l'altro ieri e da sempre grazie per questo vostro impegno che si riassume si concentra ho sentito l'ultima delle ultime parole dell'intervento del nostro Paolo Giorgi è un po' l'animatore anche di questi nostri servizi di assistenza di incontro di accoglienza le ultime parole avrei voluto soltanto aggiungerle lì vi darò un episodio che può illuminare cari ragazzi aquilani voi voi apruzzesi voi di qua avete sentito che il futuro sarà neanche nella vostra inventiva cercate di dormire il meno possibile non dormire col sonno di essere sempre meno sciocchi il futuro la vita il lavoro non ve lo darà qualcuno c'è poco tempo sia per scherzarci e sia per eludere questa attenzione tutte le varie materie che la scuola vi propina come aggiornamento come tecnica come cultura come realizzazione della persona umana ma poi come applicarli e come applicarle queste competenze nessuno vi regalerà niente cercate che mentre pensate mentre giocate mentre imparate qualcosa lì a scuola cominciate a pensare come applicarle quello dovete manifestare perché il politico dei vostri desideri non ne capisce niente fanno i loro interessi vi è stato detto questo rispetto per la forza dell'immigrazione le nazioni straniere Stati Uniti Germania qui in Europa Francia Belgio si sono serviti da cent'anni a questa parte di tutte le migliori forze delle nostre braccia e delle nostre menti dei disperati italiani i migliori che sono andati in Canada sono tutti imprenditori hanno realizzato con i loro servizi che allora erano quelli più umili ma i grandi lord inglesi non esistono più in Canada sono morti nei loro vizi e tutti debbusciati e stupiditi credendo di essere latifondisti grandi proprietari i miei parenti i miei cugini adesso dove erano andati per disboscare e li portavano da mangiare un giorno sì e un giorno no non sapevano dove erano dove li avevano calati in mezzo ai boschi stavano invece a 30 35 chilometri da Toronto ma a piedi vai a Toronto adesso sono loro i proprietari non soltanto degli strumenti per abbattere le piante ma dei camion di tutta l'imprenditoria delle falegnaverie fino ai trasporti coloro che dovevano caricare i camion adesso sono proprietari dei camion e dei terreni e delle importazioni ed esportazioni parlo di gente abruzzese e se poco poco sentite qualcuno dei vostri nonni o qualcuno che può raccontare questo i migliori che sono poi ritornati nei paesi sono quelli che hanno dato sangue sudore dove sono andati i minatori del Belgio a parte la disgrazia che ci ha reso ancora più famoso quell'intervento i minatori del Belgio sono quelli che hanno ratrizzato le sorti dei paesi adesso cosa volevo dire siete stati anche invitati di tener conto di tutto uno sforzo politico amministrativo sociale quando vi incontrate con famiglie che stanno in difficoltà sappiate che gente più civile di noi come l'America Stati Uniti hanno sofferto per l'accoglienza la lingua la casa il pane pari pari però hanno avuto anche grande istruzione e grande libertà della imprenditoria quella che in Italia in Europa a proposito della crisi vi sarà negato un giorno abbiamo fatto una riunione qua e c'era non vi dico chi il quale diceva e lo diceva che con una disinvoltura si sono persi gli antichi mestieri non c'è chi raggiusta un bottone dalla giacca allora ho chiesto io dilla a tuo figlio ad andare raggiustando i bottoni delle giacche di a tuo figlio ad andare vendendo i calzini e poi ti sequestrano anche la busta con quattro punte di trapano eccetera da una parte vi dicono ai giovani vi dovete inventare il lavoro dall'altra parte vi mettono tutti gli ostacoli perché legittimamente non ve lo faranno fare se non date uno scontrino e allora immaginiamoci un futuro in cui tutte le vostre competenze le vostre culture le vostre energie la speranza per il vostro futuro è da costruirlo lo costruiremo insieme sentitevi di chi vi può dare un consiglio ma si tratta di fare leggi sul lavoro leggi su una libertà di iniziativa come fa un giovane a mettere su una iniziativa quando non ha capitali alle spalle per crearsi mezzi e rapporti commerciali come fa come fate ad andare a zappare un campo staranno diecimila ostacoli allora l'interrogativo è tutti insieme stiamo in difficoltà non è soltanto l'immigrato e adesso che finiscono i soldi di mamma e papà che hanno messo adesso che finiscono le pensioni dei nonni cari giovani le sigarette non sono così facili e la pizzetta e il bar e la anche un luogo di divertimento i dieci euro saranno sempre più preziosi perché adesso fino adesso non sono stati vostro sudore vostro impegno è stato tutto regalato adesso si chiede in una forma e io penso sarà la migliore quella che vi farà uomini capaci di dire il mio pane né quello che rubate e né quello che vi regalano il mio pane sarete capaci di dire la mia famiglia sarete capaci di dire i miei affetti non quelli interscambiabili e allora questa serietà che viene attraverso l'imprenditoria e diciamo attraverso lo spauracchio economico sono sicuro che farà di voi e cercate di collaborare cercate di collaborare perché è un modo per venirvi incontro conoscendo tutte le vostre difficoltà io mi troverei a mio agio a inventarmi un lavoro oggi e quindi capisco soltanto reagite al posto che con indifferenza o con strafottenza reagite con un po' di cervello e vedrete che quando prima saranno proprio i giovani a insegnare agli adulti tutte le strade che abbiamo rese impraticabili il vostro futuro non si allineerà con un sistema bancario come quello che abbiamo prodotto il vostro futuro non sarà un sistema sociale non sarà un sistema lavorativo regolato dalle stesse leggi che noi abbiamo intrecciate e quindi io auguro a voi una speranza che gli adulti trovano nelle forme di aspirazione alla pensione e a godersi il frutto della propria vita sia veramente una speranza resa concreta da voi e per voi un mondo che nessuno vi regala cercate di essere e incoraggiarvi a vicenda il fatto della immigrazione è una è una rigenerazione delle delle energie tutti quelli che vi stanno facendo mangiare le patate avvelenate perché ne dovevano produrre di più hanno guadagnato un euro e ne stanno spendendo tre per le malattie stiamo producendo dobbiamo produrre di più e dov'è che stiamo spendendo non si può spendere nella scuola non si può spendere nella cultura non si può spendere nell'arte si dovrà spendere nelle medicine e allora cerchiamo un po' di pensare forse meglio meglio una mela in me che sia sana che non tre che vi avvelenano sono pensieri che li dovete fare l'obiezione di coscienza la dovete fare voi cercate di comprare ciò che è vero e ciò che è giusto non vi prestate ad essere servi e schiavi di tutti i trucchi che vedrete nella vostra vita cercate di scoprirvi con intelligenza ed entusiasmo è l'augurio che vi faccio perché il servizio sociale non è una umiliazione e il pane che dividiamo con l'immigrato non è diviso e moltiplicato augurio allora prima delle conclusioni avete domande curiosità volete qualche chiarimento qualcuno vuole intervenire no allora darei la parola a Maria Assunta Rosa dice prefetto del dipartimento libertà civile immigrazione del ministero dell'interno per le conclusioni della mattinata grazie 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 a tutti perché è stata una mattinata ricca ricca di emozioni di stimoli fino all'ultimo intervento che mi hanno riusciuto i ragazzi saranno stanchissimi bravissimi intanto bravi veramente bravi tutta una mattinata fermi immobili mi è capitato un'altra volta di avere dei ragazzi davanti inaspettatamente a Perugia ed era una platea piena di ragazzi non so se ho già detto questa cosa a qualcuno dei presenti che mi conosce ed è stata pure in quell'occasione una giornata per me di forte arricchimento perché la limpa d'Italia viene da voi cioè noi adulti ci sforziamo di trovare delle soluzioni ci sforziamo di darvi dei valori e questo è fondamentale per noi potervi come dire indirizzare verso quello che è una dimensione di vita migliore da tutti i punti di vista però poi è difficile perché la realtà è dura il terremoto è stato drammatico per l'Aquila io mi trovo qui e ogni volta che vengo io sono a Bruzzese tra le righe e mio padre è di Fagnano Alto io sono da Capestrane e mi trovo ogni volta a soffrirla questa cosa perché non riesco più ad accettarla nel senso non è possibile che una realtà così viva così ricca sia stata così abbattuta e non deve essere così non deve essere così e abbiamo trovato la forza di reagire per tutti non c'è il migrato non c'è l'italiano non c'è nulla ci sono uomini che devono lottare per ricostruire questa dimensione di vita l'Aquila e la Bruzza erano un paese dei territori che accoglievano che accorgono quindi come diceva giustamente la Mezzopane avevano un animo solidaristico il terremoto è intervenuto a falsare qualche equilibrio poteva non essere così noi come il Ministero dell'Interno ci siamo trovati chiamati subito in causa diciamo dalla provincia qui davanti della Prefettura che è il nostro pericolio che è una dinamazione del Ministero dell'Interno lo sapete gli uffici della Prefettura sono uffici che si trovano in tutte le province d'Italia e rappresentano il Ministero dell'Interno e lavoriamo siamo colleghi e lavoriamo insieme per delle stesse finalità quindi la Prefettura per noi ha rappresentato la prima ente che si è dovuto cimentare e trovare delle soluzioni trovare delle possibili strade per aiutare per sostenere tutta la popolazione tutta la popolazione stranieri italiani non c'è stata differenza e quindi questo progetto risponde ancora più a queste esigenze come Fondo Europeo è orientato sapete un fondo di nuova istituzione a dare dei sostegni alla popolazione mentre in Italia ad altri paesi dei paesi degli stani terzi come si dice in Europa e sostegno sostegno per tutto sostegno per parlare meglio sostegno per lavorare sostegno per trovare una casa sostegno per capire meglio che andare al pronto soccorso non è giusto ma bisogna andare da un medico e quindi fare una tessera sanitaria come diceva prima la presa e quelle belle schede che sicuramente avrete fatto per i vostri genitori quindi sostegno sostegno a che tutto proceda in maniera che l'uomo possa l'uomo che arriva da un paese diverso possa lavorare insieme sentire appartenenti alla comunità che ha scelto dove andare appunto come suo scopo dove realizzare il suo progetto migratorio l'arguina è stata accidentata in questo perché il terremoto non ci voleva perché chiaramente il terremoto porta è un evento imprevisto un evento che distrugge distrugge un po' tutto distrugge anche quelli che sono gli equilibri fra individui ma non solo fra stranieri ma fra italiani stessi per cui è stato difficile e io mi ricordo che nei primi progetti che abbiamo attivato con l'Aquila quello che dicevamo con chi lavorava con noi quell'anno c'era la provincia la prefettura sempre e l'associazione di costruire insieme dicevamo attenti perché non è facile attivare questi interventi perché voi avete davanti sì lo straniero che si trova in difficoltà ma avete anche l'italiano che si trova in difficoltà quindi attenti a non carpestare non emozioni a rispettare tutto quanto e perché l'integrazione in ogni caso è un processo a due vie dice l'Europa l'Europa dice questo imparate questa cosa è un processo bidirezionale significa che vanno attivati vari interventi sia per lo straniero aiutarlo come ho detto prima a trovare a capire meglio il posto dove va a vivere a conoscere ma sia per il paese che accoglie in questo caso appunto l'italiano a capire quanta ricchezza può avvenire dalla gente dalle persone che vengono da pensi stranieri quanto può essere il valore aggiunto che queste persone possono poi dare ai paesi ai nostri paesi e quindi bisogna accoglierli come risorsa come risorsa risorsa per la vita risorsa ancora di più in questa fase una fase di criticità dove appunto diceva Padre Orino che dare il pane non è una divisione ma una moltiplicazione è una moltiplicazione quindi è questo effetto incrementale che deve avere l'immigrazione l'integrazione deve avere un effetto di amplificazione di tutto quello che si può fare di aiutare di ottimizzare al meglio le risorse questo progetto della prefettura dell'Aquila come diceva prima una collega noi abbiamo chiesto a tutte le prefetture di attivare dei progetti per poter favorire anche la migliore qualità dei servizi dei nostri uffici e quindi il primo scopo è stato quello appunto di trovare delle modalità di intervento che aiutassero la prefettura dell'Aquila ad andare incontro al territorio a rispondere di più alle esigenze che il territorio esprimeva e quindi questo appunto è la finalità principale la seconda è quella appunto di arrivare seconda e chiaramente è prioritaria per il fondo è quella di arrivare al cittadino al cittadino italiano al cittadino straniero non è importante capire al cittadino di una comunità a cui ci si rivolge per aiutarlo a capire meglio che cos'è la legge quali sono i servizi che sono offerti a capire tutto chiaramente questa cosa aiuta lo straniero in prima persona perché deve capire adesso abbiamo tutta questa normativa sul test di ingresso per i lungo soggiornanti l'accordo di integrazione questa firma di questo accordo perché apriva adesso dopo il 10 marzo sui nostri generi per la prima volta e quindi è una serie di innovazioni che vengono che sono state introdotte che devono essere conosciute perché conoscere questo significa saper affrontare del migliorere modi non c'è nessun tipo di imposizione da parte di queste modi il fatto della lingua la lingua è fondamentale per integrarsi nei paesi dove si va a vivere se non conosciamo la lingua non possiamo esprimere nulla è importante voi questa azione che facevate con le scuole questo regolare attraverso i ragazzi che sono i mediatori naturali per le famiglie informazioni mirate anche a poter parlare meglio a poter muoversi meglio scuola famiglia ragazzi è un circuito vittuale proprio un circuito che deve essere alimentato e che può effettivamente dare poi dei buoni risultati queste esigenze sono state congiurate benissimo da questa protettualità che ha portato avanti la prefettura dell'Aquila perché ha coniugato due cose l'innovazione quindi l'utilizzo di questi diciamo strumenti di queste nuove metodologie di intervento con però quello che io prediligo il rapporto umano non è facile molto spesso l'Europa parla di innovazione parla di learning parla che ormai è decaduto ormai come di learning non serve non arriva perché la formazione a distanza non è una formazione che ha l'impatto che poi non ha formazione a persona per cui questo progetto invece è riuscito a coniugare questo tipo di nuove tecnologie preservando però la cosa più importante dal punto umano da andare dentro da andare a muoversi l'idea dell'apertura di questi punti recettivi va sul territorio ancor più va sul territorio il punto recettivo mobile che va ad aggiungere anche io riconosco questi paesi sono paesi che oltre a essere non tanto distanti ma che sicuramente dove vivono poche persone dove non sono molto abitati io avendo presente questa realtà capisco quanto possa essere utile l'idea di un punto recettivo mobile che va nei paesi non mi dico solo che il paese dove sta mio padre veniva non c'è negozio quindi veniva venivano sempre a stare meglio quindi non era un problema però venivano dei pulmini a pendere le cose allora la stessa cosa è l'utilizzo chiaramente di questo punto recettivo mobile questo camper che va nei territori che porta conoscenza che porta appunto informazione a chi o non può muoversi o non ha i mezzi neanche di capire dove rivolgersi ancora di più chiaramente l'opuscolo informativo quindi è stata un'azione di avventura molto virata che noi porteremo sicuramente a valore perché speriamo che possa avere anche la possibilità di continuare come possono avere la possibilità di continuare tutti gli interventi tanti che abbiamo finanziato all'appunto nel 2010 è stata una delle regioni più finanziate non a caso il prefecto Ciclosi che era il prefecto Marandino che c'è adesso che è autorità responsabile del fondo ha preso talmente a cuore la situazione dell'Aquila che dopo il terremoto venimo qui andiamo alla terra che c'era a Paganica e aveva pensato di mettere proprio sulla programmazione del fondo noi ogni anno mandiamo all'Europa delle programmazioni su quello che vogliamo fare e l'Europa ci dice sì o no ce la trova eccetera in una programmazione quella del 2000 successiva chiaramente al terremoto avrà messo una postilletta in cui c'era su tutte le azioni loro si potrebbero ricordare sicuramente la possibilità di prevedere delle azioni privilegiate proprio sul territorio avvilato l'Europa ce l'ho invece elevato perché diceva che non era possibile perché ci dovranno essere altri fondi per alimentare per arginare la problematica del remoto e noi abbiamo in qualche modo mai passato ma così la situazione andando in ogni caso a privilegiare la realtà abruzzese a finanziare altri progetti anche la regione è stata chiamata a finanziare a realizzare dei progetti proprio sull'alfabetizzazione e in questa sede chiedo proprio se è possibile chiaramente l'assessore andato via ma lo chiederò alla mia collega dell'Aquila della prefettura di attivare un meccanismo di sostegno pure per la regione perché si è trovata nell'attimo anno un po' in difficoltà quindi se è possibile anche per quest'anno sono quasi 300 mila euro che riportare indietro l'Europa è un peccato direi e quindi si è riuscita ad attivare dei meccanismi di sostegno e di aiuto proprio per non spiegare queste risorse per non essere ancora più lunga di quello che sono stata la rete è l'ultima cosa che vorrei dire la rete è una cosa che usiamo troppo spesso e cosa significa la rete finisce a lavorare insieme per arrivare a un processo di miglioramento quindi il comune la provincia la prefettura le scuole tutti coloro che hanno in qualche modo la possibilità di agire per migliorare determinate forniture di servizi la scuola la prima laboratorio principale di integrazione manca seguire tutti gli altri uffici del lavoro uffici del chiaramente comuni questa è la rete se si mettono insieme tutti questi interventi aiutati delle associazioni che sono il cuore di quello che anima tutto questo oggetto di integrazione sicuramente quello che si potrà poi arrivare a produrre sarà qualcosa di positivo quindi quello che è di duratura questo è importante tutti gli interventi non devono iniziare e finire devono continuare dovranno essere sostenibili sostenibili significa che qualcuno li prende li fa provi e li continua a portare avanti le scuole sono un veicolo principale privilegiato in questo perché non in caso le scuole poi continuano a lavorare a trasmettere questi valori a tutti i ragazzi che dopo di voi che si avrebbero diventati cittadini del domani li sostituiranno e quindi questi valori continueranno a crescere nelle scuole e ad essere sicuramente alimentati da voi stessi e con questo penso che l'ultima cosa che mi resta da fare è ringraziare la prefettura dell'Avria il premetto Iurato sensibilissimo a questa tematica a queste problematiche e la fondazione Mondo Indigitale e tutti gli altri che hanno partecipato a questo progetto che hanno fatto veramente un'azione poi sinergica vedo che c'è stata questa sinergia con l'altro progetto di Sant'Emerio quindi questo coinvolgimento è importante il coinvolgimento anche di chi opera all'Avria a livello associazionismo più si estende il coinvolgimento anche di tessuto associativo più è partecipato da tutti e più in questa realtà ripeto fragile in questo punto sicuramente fragile che è sotto l'occhio dei riflettori adesso in questa fase nuova speriamo speriamo di ricostruzione e anche questa figura ingresso di nuovi immigrati deve essere sostenuto deve essere sostenuto e in qualche modo governato grazie grazie a tutti e ancora complimenti a tutti abbiamo finito grazie a voi di essere stati con noi e buona giornata a tutti